È importante che ognuno di noi abbia comportamenti intelligenti, che siano conseguenti al momento di grave crisi che ognuno di noi vive. Il mio invito è quello ad adottare un produttore toscano. In un momento di grave crisi, dove viene chiamata il nostro settore, l'agricoltura, l'agroalimentare in generale, a dare risposte di cibo salubri e soddisfacenti, credo che sia molto importante che ognuno di noi faccia questo tipo di operazione. Quindi adottiamo tutti un produttore toscano.